Ganna doveva essere e Ganna è stato. Super Pippo vince alla grande la prova Crono Uomini Elite conquistando il quarto titolo tricolore da campione in carica. Di salita oggi ce n'era, però sono andato bene, abbiamo mantenuto i numeri che aspettavamo. Il Verbanese della Ineos Grenadiers ha chiuso i 25,7 chilometri col tempo di 32 primi e 48 secondi a oltre 47 di media, rifilando 24 secondi a Mattia Cattaneo, Sodal Quick Step e 30 a Matteo Sobrero, Giaico Alula. Prova breve ma molto impegnativa quella trentina che subito dopo il via proponeva uno strappo di 2400 metri al 7,3%, un tratto vallonato e poi la discesa verso il traguardo. Purtroppo in cima alla salita non mi andava più la radio, ho fatto la discesa un po' a cieca, però è andata bene. Ora Pippo nel Mirino ha la gara in linea di sabato.